La partita Bologna-Napoli termina con la vittoria che arriva direttamente nelle mani del Napoli per un gol a 0 in casa del Bologna, infatti la partita è Bologna-Napoli, non Napoli-Bologna quindi Napoli ha giurato in casa il suo avversario, quindi il Bologna e il Napoli vince, conquista i tre punti in questa partita di oggi, 8 novembre 2020 per quanto riguarda il campionato di Serie A un Bologna non tanto reattivo, un Bologna spento, un Bologna anacquato che in casa si suppone, si supponeva che potesse vincere ma che in realtà trova una sonora sconfitta ad opera del Napoli un Napoli reattivo, vulcanico, esplosivo, azzalto a dire che al ventitresimo minuto di gioco fa gol grazie al giocatore che si chiama Victor Ossiman Ossiman, 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 che del si voglia la vittoria che giunge dunque nelle mani dirette del Napoli un Napoli davvero convincente, travolgente, che stupisce e emoziona tutti nessuno escluso, il Napoli è tanta roba è un Napoli che conquista questi tre punti in maniera diretta, autentica, sagaci, completa e soprattutto splendida, splendente bene, complimenti dunque a Napoli il video termina qua iscrivetevi al canale Narratore Italiano commentate e datemi le vostre opinioni ci tengono a verle ciao, non è tutto il video ciao